Ancora umani. Cerchio Kesed, attraverso Flora. Io sono Angelo. Per le ragazze qui presenti sono un collega e non ex di Andrea e Massimo era il mio capo. Io sono trapassato qualche anno fa per un incidente stradale e, come dice la vostra guida, ho preso il bivio sbagliato. Loro mi avevano avvertito di incidenti gravi, ma io ho sempre pensato di essere indistruttibile. Ero forte, Andrea lo può confermare, però se ci si mette il destino o il karma, come lo chiamate voi, non c'è forza che tenga. Beh, io ho lasciato una moglie e una figlia di sei mesi. Capite bene quanto soffro e ho sofferto. Solo perché una sera ho azzardato un sorpasso su una stradina troppo stretta per un autobus ed una macchina insieme, ed io l'ho preso in pieno. Inutile dire dell'agonia che ne è conseguita. Non sono morto sul colpo. Ero forte, ricordate? Ho resistito quasi un mese. Altre persone sarebbero morte sul colpo, senza speranza. Invece il mio karma prevedeva che anche mia moglie registrasse tale radicale cambiamento nella sua vita. Mia figlia forse no. Continua. Grazie. Grazie.